Pino Amato Perché i Molfettesi devono votare Peppino Longo? L'ho già detto nel mio intervento, Peppino Longo ha spiegato il suo programma che è il programma dell'Udc, innanzitutto per chi mi conosce Peppino è una persona semplice come me, lo ha detto lui, è una persona comune, vicino alla gente, vicino ai problemi della gente perché la regione non deve essere distante dalla nostra città, la regione deve essere vicino alle esigenze dei cittadini e alle istanze dei cittadini. Noi siamo un partito radicato sul territorio di Molfetta, rappresentiamo oltre il 10% della comunità molfettese e riteniamo che Peppino Longo possa essere il nostro candidato, deve essere il nostro candidato e siamo sicuri che lui ritornerà da consigliere regionale e starà vicino alla gente di Molfetta. In politica non per occupazione ma per preoccupazione, che significa? Come dicevo prima anche dentro io non ho bisogno della politica per andare a occupare un posto in consiglio regionale perché ho il mio lavoro, la mia attività, sono stato fortunato sotto questo aspetto, ma mi preoccupa il futuro, mi preoccupano i giovani, mi preoccupano le famiglie, mi preoccupa questa economia che non va in Italia. Grazie 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 Grazie